Ok ragazzi, oggi in questo video volevo fare qualcosa di diverso Ho una sfida personale con questo bot, che è il bot hacker E praticamente non sono ancora riuscito a batterlo perché è veramente ma veramente dura In sintesi sto bot fa 20 gps e ha 3.7 blocchi di hit range E sapete bene che il massimo player range che un player normale può dare è di 3 blocchi Però proverò a batterlo Quindi adesso iniziamo Ok, siamo qua in partita Ok Trade? What? Non sto citando Giuro Ok Ok Ho missato quella bot? Bro No! Vedete? È difficilissimo, non riesco Tappiamoci che lui sta già arrivando a quanto sento Eccolo lì Ok Ok Ok, no, no Ok Ok, vai No, devo farmi mai prendere Oh Straight line Ok, vai, vai Boom Boom, boom Usiamo Usiamo glitches block hit Oh Oh, vai, vai, vai Ok Mangiare Oh Oh No No, va bene Ok Ok Ok, ne approfitto adesso per vedere la speed Andiamo Ok, intanto lì mi va Braga Oh, si è fermato Ok, no Ok, ok Sta panicando No, 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 no Non mangiare non mangiare Vai vai vai... Ha parlato? No no! Non vale! Non ci credo Non ci credo Sei serio? Avremo le stesse foto Le stesse foto Ok Ok riproviamoci Diciamo che questa l'avevo vinta io Perché se non si fosse glitchato fuori dalla mappa Probabilmente l'avrei vinta Vai a noi due Ok Ok pressiamolo Se mi hit era più lontano li parlo addosso Ho capito come fare Ok Non ci credo Sta andando molto bene Non sputtagnamolo Ok Devo mangiare Devo mangiare Ok 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 Oh no Ok Vai 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 No 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 Ok molto male molto male Molto male refil Vai vi Ok No 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 L'ha bevuta Ok non l'ha bevuta Non l'ha bevuta Non l'ha bevuta Ok Ok Oh mezzo quarente Mi aveva perduto pure Oh mamma Ok Refill Ho tirato quella potta addosso a lui Non ci credo Ti prego Ti prego Fa che vinca io Oh Appena si gira per potarsi Ok Ora Ok Una potta Una potta Una potta Non ce la faccio 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 Avevo tre potti in più Ok Stavo andando molto Ma molto bene Però Ha quick droppato E adesso lo vado a riduellare Non lo voglio quick droppare Voglio che Arrivi fino a full fight E vediamo se riesco a E vediamo se riesco a Tenere di testa Sono morto No No Due puttato Sono morto lo stesso Eh vabbè Non riesco Non riesco veramente Basta Ultima volta E se non ce la faccio Finisco il video E vediamo se riesco a E vediamo se riesco a Sì No Dei mangiare No tu non mangi però non mangi allo stesso tempo Ho scappato? Sì Ho scappato Sì 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 Ho vinto Vai Sì 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 Sì